Ma intanto è un esodo importante perché abbiamo potuto fare il punto con tutti i soggetti protagonisti della gestione delle infrastrutture della nostra provincia sulla situazione delle infrastrutture. Provincia Chieti ha 300 ponti di cui 62 attenzionati sui quali bisogna lavorare, ANAS ha rappresentato qual è lo stato di controllo in questo momento delle proprie infrastrutture e degli investimenti che intende fare sul nostro territorio, Autostade per l'Italia ci ha confortato rispetto alla attenzione che viene messa trimestralmente sul controllo delle proprie opere, così come Ferrovie dello Stato ci ha rappresentato i risultati dei controlli effettuati da ultimo. Questo non vuol dire che è tutto risolto ma semplicemente che esiste a questo momento un dato sul quale poter lavorare. Abbiamo da far sedere al tavolo Regione Abruzzo che in questo momento non è parte di questo tavolo ma che ha competenze sui fiumi così come su altre situazioni che abbiamo rilevato come le proprietà del Consorzio Industriale. Quindi su queste cose dovremo riconfrontarci ma intanto possiamo portare a casa il primo risultato che è quello di una stima iniziale, di una verifica iniziale della condizione in cui si trovano le nostre infrastrutture. Il prossimo passo è quello di trovare le soluzioni perché le criticità oggi emerse possano avere delle risposte immediate per dare sicurezza ai cittadini e ovviamente per non interrompere un servizio fondamentale che è quello del collegamento al nostro territorio. I ponti attenzionati sono 62, alcuni con maggiori criticità, altri con livelli di attenzione inferiore ma 62 sono quelli sui quali oggi la provincia sta costantemente monitorando lo Stato. Opposto anche ovviamente il problema della città di Chieti che nelle ultime due bombe d'acqua, quelle del 14, 15 e 16 di agosto ha avuto danni notevoli così come nella nostra città, ce ne sono anche altre situazioni di criticità ma certamente il capoluogo è il luogo dove maggiormente si è sentito il problema delle alluvioni del metà agosto.